Oggi ho deciso di rivisitare la Diocesi di Acqui, partendo proprio da qui. Sono venuto a visitare due realtà, l'Oratorio Interparrocchiale e il Catechismo Interparrocchiale, formate dalle parrocchie di Castelletti Molina, Quaranti, Fontanile, Mon Baruzzo Alto e Mon Baruzzo Stazione. Sento che c'è in noi quel posto migliore, riconosco quei perché e sono vento sulle belle. Non importa cosa dicono di te, che in fondo tanto sai che non ti lascerai scappare un'avventura tale. Tutto quel che siamo, tutto quanto è al posto giusto, non c'è tempo più bello di adesso. Che ci lasci un segno è quello che sarà, sarà soltanto se ci siamo e mentre passerà noi ci saremo. Ora che sei qui con me, sulla strada del sole, sei così vera che mi fai sognare. La comunità cattolica Shalom, una bellissima realtà con molti giovani che danno la loro vita, il loro tempo. Alcuni appunto sono missionari e danno il loro tempo per davvero avere un'esperienza personale con Gesù Cristo Attraverso la preghiera, la preghiera comunità. Io me la vivrò, amando sempre fino in fondo. Tutto quel che siamo, tutto quanto è al posto giusto, non c'è tempo più bello di adesso. Che ci lasci un segno è quello che sarà, sarà soltanto se ci siamo e mentre passerà noi ci saremo. Sì ci saremo, sì ci saremo, sì ci saremo, sì ci saremo. I ragazzi della CR si incontrano per colorare un po', infatti come vedrete oggi stanno colorando con alcuni pennelli così, molto divertenti. Sono colorando diverse figure per prepararsi alla Pasqua, sono i ragazzi diciamo proprio piccoli, dalla prima alla quarta elementare e poi ci saranno, arriveranno tra poco anche i ragazzi un po' più grandi, quindi è molto bello vedere questa allegria che questi piccolini danno per la loro città. Per lasciare un segno è quello che sarà, sarà soltanto ciò che diamo e mentre passerà noi ci saremo. Ho vissuto anni bui in cui i demoni strisciavano lungo la mia schiena e quasi ci restavo. Non sono un esorcista, ma se ne sono andati, li ho rinnegati così a lungo che non sono più tornati. Alla fine ho accettato il fatto che Dio pensava ci fosse qualcosa in me che valesse la pena di salvare. E chi ero io per dirgli che aveva torto, non sono mica Dio, non sono mica Dio. Quanta musica senza verità, voglio una musica davvero libera. Potreste anche incatenarmi dentro una prigione, ma Dio ho già liberato la mia anima. Ho vissuto a lungo senza avere una ragione, ma adesso so che cosa voglio dalla musica. Alla fine ho accettato il fatto che Dio abbia visto che qualcosa in me vale. Non ho cambiato arte, sono rimasto io, ma faccio al meglio la mia parte, la faccio grazie a Dio. Quanta musica senza verità, serve una musica davvero libera. Potreste anche incatenarmi dentro una prigione, ma Dio ho già liberato la mia anima. Ho vissuto a lungo senza avere una ragione, ma adesso so che cosa voglio dalla musica. Potreste anche incatenarmi dentro una prigione, ma Dio ho già liberato la mia anima. Ho vissuto a lungo senza avere una ragione, ma adesso so che cosa voglio dalla musica. Ho vissuto a lungo senza avere una ragione, ma adesso so che cosa voglio dalla musica. Oggi sono venuto a Ovada per vedere queste realtà giovani che esistono anche qui. Ho visto in particolare due, i scout e l'oratorio di Bordo al Diego. In pratica è stato molto bello perché davvero la gioia che vedevo in quei visi, anche nella semplicità di un cerchio, di un canto, ma veramente c'era davvero lo spirito di Gesù in mezzo a loro. Io sono molto contento di questa esperienza, è stato davvero un momento particolare. Il mio miglior difetto io non posso, restare qui a guardare il nostro mondo, luciare lentamente, senza fare niente voglio vivere. C'è chi lotta perché ha visto da te la benedza, è stato davvero giusto. Questa mentere che dipenderà anche da me, il mio miglior difetto che oggi scelgo, e questa sera in particolare c'era un incontro di preparazione e informazione delle notazioni, per poi il sabato di pomeriggio e l'altro incontro di salvezione. Questo, il mio miglior difetto io non posso, restare qui a guardare il nostro mondo, luciare lentamente, senza fare niente, desistere. Io voglio vivere, sì! Non ho mai capito mai dove sia la verità, nella vita di chi guarda e passa. Non ho mai capito mai dove sia la dignità, nella vita di chi se ne frega. Sento una verità, è più forte di me, in ogni cuore c'è già scritto che una sola unità vale l'umanità. Ho vissuto anni bui in cui i demoni strisciavano a lungo la mia schiena e quasi ci restavo. Non sono un esorcista, ma se ne sono andati, li ho rinnegati così a lungo, che non sono più tornati. Alla fine ho accettato il fatto che Dio pensava ci fosse qualcosa in me, che valesse la pena di salvare. E chi ero io per dirgli che aveva torto? Non sono mica Dio. Non sono mica Dio. Non sono mica Dio. Siamo qui ad Acquiterno, all'oratorio Santo Spirito, che è un oratorio sanlesiano in cui i giovani al sabato pomeriggio si riuniscono per danzare, stare insieme, giocare a pallone. e la cosa molto particolare è che non tutti sono cristiani, molto interessanti perché, come diceva Don Borsco, bisogna trovare un punto accessibile a bene, quindi non importa che erano i giovani, che erano i giovani. Ma adesso so che cosa voglio dalla musica Alla fine ho accettato il fatto che Dio abbia visto che qualcosa in me vale Non ho cambiato arte, sono rimasto io, ma faccio al meglio la mia parte, la faccio grazie a Dio Quanta musica, senza verità, serve una musica davvero libera Potreste anche incatenarmi dentro una prigione, ma Dio ha già liberato la mia anima Ho vissuto a lungo senza avere una ragione, ma adesso so che cosa voglio dalla musica Potreste anche incatenarmi dentro una prigione, ma Dio ha già liberato la mia anima Ho vissuto a lungo senza avere una ragione, ma adesso so che cosa voglio dalla musica Sono qui a Quinterme nella parrocchia di San Francesco a incontrare i ragazzi giovani e giovanissimi dell'Azione Cattolica Che si incontrano due volte al mese e oggi stanno parlando dei vizi capitali in particolare Del vizio dell'invidia, infatti stanno facendo una piccola attività in cui appunto devono esprimere Facciamo una piccola frase, ma devono esprimere le loro emozioni riguardo a una certa situazione È come un gioco di ruolo, molto interessante Lascerai scappare un'avventura tale Tutto quel che siamo, tutto quanto è al posto giusto Non c'è tempo più, parlo di adesso Che ci lasci un segno è quello che sarà Sarà soltanto se ci siamo E mentre passerà noi ci saremo Ora che sei qui con me Sulla strada del sole Sei così vera che mi fai sognare Non si vede ma poi c'è Un po' come l'amore Che accende la passione Ti fa cambiare È tutto ciò che so Se io me la vivrò Amando sempre fino in fondo Tutto quel che siamo, tutto quanto È al posto giusto Non c'è tempo più bello Non c'è tempo più bello di adesso Che ci lasci un segno È quello che sarà Sarà soltanto se ci siamo E mentre passerà noi ci saremo Sì ci saremo Sì ci saremo Sì ci saremo Ci saremo Vorrei fossi qui con me Sì ci saremo 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 Sì ci saremo